ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco fospeg siero attivo a cosa serve fospeg siero attivo a un parafarmaco appartenente alla categoria degli anti rugganti age è commercializzato in italia dall'azienda skinius srl informazioni commerciali titolare skinius srl concessionario skinius srl categoria di appartenenza anti rug anti age confezioni fospeg siero attivo serum rigenerante anti age 30 ml indicazioni rigenerante dall'elevata funzione anti age aiuta le cellule della pelle nel loro fisiologico processo di riparazione e rigenerazione ha indicato in caso di perdita di elasticità e turgore per restituire tono densità e luminosità texture fondente e corposa adatta anche alla pelle sensibile modalità d'uso applicare mattina e barra o sera su viso e collo ideale anche come maschera in caso di smagliature lassità cutanee in estetismi delle cicatrici applicare mattina e sera sulle zone interessate si consiglia l'uso sinergico con fospeg punto in amarchio registrato integratore alimentare per una rigenerazione in e out descrizione e caratteristiche contiene un'alta concentrazione di fospidina un complesso formato da fosfolipidi estrati dalla soia e glucosamina la loro sinergia ha dimostrato un'importante azione rigenerante sui tessuti cutanei in quanto l'attività della glucosamina precursore dell'acido ialuronico risulta efficace grazie alla veicolazione operata dai fosfolipidi che penetrano fino al derma principi attivi fosfolipidi costituenti fondamentali delle membrane cellulari favoriscono la rigenerazione delle cellule e sono utili per l'integrità della barriere idrolipidica di superficie glucosamina favorisce la fisiologica formazione di acido ialuronico e partecipa alla costituzione delle membrane cellulari fitosteroli favoriscono la sintesi delle fibre di collagene ed elastina e contribuiscono ai sistemi di trasporto di membrana avvertenze la tollerabilità a stata dermatologicamente testata su pelle sensibile si sconsiglia l'applicazione solo in caso di sensibilità accertata verso uno dei componenti il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali in luogo asciutto e a temperatura ambiente e al riparo dalla luce componenti e ingredienti acqua lecetine etilexil stiarate alcol ppg 25 lauret 25 glicerine glucosamine sulfate glicosaminoglycans fitosterols toccoferilacetate sorbica cid caprilil glicol deidrocetica cid pentilene glicol benzoic acid benzina alcol poliacrilamide c13 14 isoparaffin trietanolamine lauret 7 acrilates barra c10 30 alchilacrilate cross polymer fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato